Il senatore si dovrebbe vergognare a vita per i gestacci che ha fatto contro i senatori del Movimento 5 Stelle. Ieri peraltro è tornata a parlare la Lenzi. Sentiamola. Mi attendo una posizione che dovrebbe arrivare lunedì pomeriggio, quando è convocato l'ufficio di presidenza, in cui si stigmatizzi l'oltraggio e si pongano anche delle differenze tra la dialettica politica, tra maggioranza e opposizione, è quello che invece è una chiara ingiuria, che è sessista, che non ha nulla a che fare con il dialogo politico, che può essere anche aspro, ma che non deve toccare queste corde. Il senatore Barani si è scusato con lei? No. E neanche il suo gruppo? No, neanche il suo gruppo. Cosa che invece hanno fatto tutti gli altri gruppi, hanno espresso solidarietà anche molti uomini, che chiaramente prendono le distanze perché offesi dal gesto di un altro uomo.